attraverso hot mix pro twin prepariamo una salsa al caramello e burro salato gli ingredienti che utilizzeremo sono zucchero semolato panna sciroppo di glucosio burro salato grazie alla possibilità di utilizzare due bicchieri indipendenti contemporaneamente prepareremo il caramello e scalderemo la panna mettiamo quindi lo zucchero semolato e lo sciroppo di glucosio nel primo bicchiere con una temperatura di 160 gradi e una velocità delle lame pari a 1 versiamo nel secondo bicchiere la panna e portiamola a 98 gradi quando la panna è calda e il caramello è pronto andiamo a decuocere il caramello versando la panna calda a filo attraverso il pratico foro nel coperchio ora raffreddiamo il tutto a 40 gradi centigradi aggiungiamo infine il burro salato una volta che la salsa si sarà mantecata possiamo versarla in un recipiente